Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si fa la pizza napoletana, la faccio io, la pasta della pizza napoletana, ora inizio con la pasta, ciao a tutti, adesso vi faccio vedere la pasta che faccio io, è una pasta normale, è una pasta di poche cose che si farebbe, mia figlia mi ha chiesto se volevo costruire, è una, se non l'unica delle cose che secondo lei faccio più, prima di tutto questa è la farina ed è un chilo, già l'ho messa a fare, già l'hai pesata, ok, poi c'è il fosso al centro, e poi prendo il sale, prendo un pugnetto di sale, che è questo qua secondo me per un chilo, ed è sempre venuto a buon, e invece di metterlo sull'acido lo metto sui bordi, perfetto, metto un altro po' per sicurezza, è bene di abbondare, il lievito, questo qua è quello lievito a cubetti, lievito di birra, due cubetti quindi per un chilo di farina, come ci dice il nostro assistente qui dietro, per lo sbriciolato, devi aggiungere l'acqua calda, bra, tiepida, tiepida, non bollente, ma neanche tiepida, calda, 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 e vabbè vedi misura la destra, ma non ce ne metto tutti questi, eh dobbiamo misurare la quantità, sennò che cazzo facciamo, aspetta, allora, aspetta, 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 ha perso, vi faremo vedere anche la pizza come o come la facciamo noi la inforniamo e come ce la mangiamo anche come la digeriamo ecco qua adesso man mano che l'impasto si indurisce io aggiungo un altro poco d'acqua prima di cinque lina vado sempre l'aiuto c'è che anzi non la sto facendo un poco più lentamente di fatto che passiamo di mangiare l'acqua non è che si deve ingurire completamente ecco quindi dovete impassare e man mano aggiungere l'acqua non è che si deve assorbire tutta la ciavo e di aggiungere l'acqua quindi a quale prese abbiamo avuto avendo già scegliamo l'acqua abbiamo aggiunto un altro po di farina perché l'impasto risultava troppo molle quindi in definitiva abbiamo fatto un chilo di farina due cubetti di lievito e 70 cm di che sarebbe 700 ml di acqua allora il fatto è questo credo che la sia buona ma che la non deve essere troppo consistente la pasta della pizza che fa mamma devo dire la verità veramente molto buona appunto come ha detto lei prima è l'unica cosa quindi suo segreto che ci ha appena svelato e questo c'è la pasta deve essere io le mani ce l'ho pulita cioè molle vedete non deve essere dura in questo modo viene morbida non fa niente questa è farina 00 e su un altro poco di farino e per solamente per farà un po di mano mamma si domande sembra parole pure se non lo so il professore è una professoressa a cui manda la parola proprio se il colmo del professore quindi la consistenza e l'emozione e live quindi la considero lavoro molto non la lavoro molto questo è la consapevole che ho fatto e apro dentro vede e molla anche facciamo una croce perfetto vedi vedete com'è ok un pannuccio sopra all'interno del forno però spento mi raccomando solo per fare un luogo caldo potreste mettere anche sotto una coperta deve bene lo stesso a evitare per quanto tempo minimo due ora di scarole adesso faccio il mescarone ci piace molto alla pizza quindi la facciamo in vari modi diversi come schiacciare la cosa schiacciare la cosa schiacciare la caglia hai a dici tu sei vanno non molto non lo facciamo soffriggere molto è ma ora un poco ci è poco ma io non lo faccio soffriggere perché chiede a meno diciamo forte abitiamo con contini ok aggiungiamo le scarole abbondante l'olio mi raccomando un secondo e io mi schizzate tu e vuoi spiegare momento facciamo da affreddare un attimo l'olio perché altrimenti rovinate la cucina e il vostro viso risfigurate si sporca tutta la cucina e poi la moglie deve pulire ma sciacquate tre o quattro ore e poi lo abbiamo bollita un attimo a bollire della fuoco alto olive olive snocciolate e quali sono queste attrezze riprese e quale questi sono per le riprese che questo è bello e modi ricordato quanti avevo fornuto questa è l'attrezione si graffia la padella è importante non troppo conto va bene spegniamo basta e ci vediamo stasera va bene stasera ciao ciao di scarole ok quindi che dobbiamo fare la pasta che abbiamo fatto precedente l'abbiamo preparato precedentemente vuole guardare come cresce facciamo vedere come è cresciuta adesso che dobbiamo fare dobbiamo stendere la pasta e preparare due panetti uno sopra e uno sotto per metterla in questo ruoto quindi un po d'olio ingiamo abbondantemente va bene poi si prende questa pizza sempre con delicatezza questo è la pasta che preparare mia moglie ma c'era moltissimo che mentre un panettone è lievitato ma riesce pure durante continuare a lievitare adesso ci vorrebbero le forchette ma no ma è schifo no via forchette rossi vieni rossi quindi andiamo a a versare tutte queste scarole che sono buonissime togliamo l'aglio sono buonissime queste scarole scarola non ce l'abbiamo detto già prepariamo il secondo panetto brava nensi piccante accendi il forno no tu chi sei io sono pacchetto pacchetto un po più sottile del precedente infatti se vengono a ricoprire questa bontà in questo panetto se non riuscite a stendere con le mani potete io avevo preparato anche più in mattelette però è poco professionale in mattelette ah si secondo strato che mettiamo su proprio più lo togliamo quindi lo stendiamo e uniamo fra di loro i due i due lembi quello di sopra e quello di sotto quindi no ha stesso con le mani così sì sì con le mani o con un coltetto un po di farina e poi se ne scende un po d'olio per ungerlo sopra si fa una crosta invece quella deve essere morbida questi pomidoni piccoli datterini datterini sono del nostro orto e devi passare con il passaverdure passaverdure e facciamo una polpa naturale invece di mettere la polpa nel barattolo mettiamo questa che più naturale più buona sa veramente di fumarola scusa adesso uno di questo me lo mangio pure far vedere un naturale allora c'è una pizza a quattro gusti a quattro gusti addirittura ma ciò vedo comunque questa pizza viene un capolavoro adesso vedrete veramente buona poi vorrete venire tutti quanti a mangiare a casa mia e che vuoi via domatterelle come non puoi vedere io devo far vedere tutto perché ho favorito che ci sei riuscito con le mani invece via domatterello guardate si vuole più tempo il datterino non si rompe scrivetelo a te è molto caldo a Napoli così si è molto duro lunga il ruoto questo ruoto qua lo debba ungere ungi vai 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 siete bello tutto a faticare io dopo a mangiare a metterlo street il si rovina la manicure andiamo a mettere quindi la nostra pizza all'interno del ruoto ecco vedete come morbida è morbidissima trucco per Gesù per far attaccare questi salsicciotti il nevo promutore ecco niente niente oddio dall'inizio nevo promutore proprio no no sotto alla fontana e con un po d'acqua subito si attacca guardate come si è attaccato si è riscaldato inizio a mettere inizio di scalore sotto questa qua la facciamo panzarotta la panzarotta è buonissima adesso vedete com'è saporitissima ci vorrebbero dei croquet ma dato che siamo accorti non ce l'abbiamo prendiamo questi qua solo che la domenica si fanno i panzarotti in quella proprio fatti in casa allora magari se la fate lunedì che avanza qualche panzarotto viene ancora più saporita alla base per fare la panzarotta si mette un formaggio spammabile veramente si metterebbe la panna noi perché la facciamo più dietetica di solito mettiamo la fila del fai light oppure fiocchi di latte si poco vedete neanche uniforme ok grossolanamente non li dovete tritare tanto cioè a pezzetti a pezzettone molly quando vede il prosciutto ovviamente compare un po di pepe molly ma che ci fai qua quindi qua mettiamo le patatine di questa l'abbiamo fatta con la polpa passata buonissima di sopra ci mettiamo un po di formaggio grattugiato quando sarà pronto penso domani questo passo la grattugia mano male basilico po di salsa super basilico perché se no tende sempre un pochino a bruciarsi vai nancy quindi parmigiano qua dobbiamo mettere alla fine l'olio d'olive quindi prima a terra quella con le scarole sta sopra e adesso ho messo questa sette minuti questa è la pizza dietetica di rossi di rosario senza olio la rughetta nel giardino ok diamo quella con le scarole e passiamo quest'acqua sopra facciamo cuocere anche lato di sopra ancora non mettiamo la provola questa è la nostra pizza di scarole guardate che bella tutta croccantina è bollente mio e ancora non ho fatto la poppo mi ha dato la signorina ma già mi scordo vai da la signora vai dove sta la signora vai a vedere vai vai da la signora vai signora mi dai la pappa per favore io c'ho fumo quindi sul lato delle patate mettiamo un po di salsiccia sbiciolata di questa qua che è la margherita ne mettiamo di più di fior di latte potete mettere anche la mozzarella di bufala però sfigiona molta acqua che va a mollare la pizza quindi ne mettiamo sempre fior di latte frisco oppure si deve preme la mozzarella di bufala quindi non è indicato o provola vi consiglio che viene anche questo sapore un po affumicato quell'angolino con i pomodori datterini interi si mette prosciutto rucola e scaglie di parmigiano al piatto così no quando la pizza già è cotta vedete questa già è cotta date com'è bella è una fame pazzesca mamma mia com'è bella patate salsiccia margherita primavera panzarotta è bellissima mangia la pizza margherita è la migliore fatemi sapere voi qual è la pizza che piace di più il gusto che preferite in generale quale stai mangiando primavera primavera adesso che cosa assaggi adesso questa devo dire che questa qua con i pomodori è buonissima perché si vede la si vede la differenza che abbiamo messo la salsa fatta con i pomodori è buona buona buonissima questa qua avevo anche la panzarotta è una delle mie preferite mamma una foto però non sempre ogni posto ogni posto riprendi la pizza con le scalolatate com'è bella è bollente morbida però un pochino croccante sopra ma ora facciamo vedere pure la festa paghito taglia guardate che delizia mamma mia è una bontà questa la dobbiamo fare a fredda però due minuti se no ci bruciamo com'è questa pizza pachito? buona è molto esquisita e ora la assaggio pure io non hai tagliato una parte, no ma la mangio proprio a voi? eh si buona la taglia buona buonissima guardate qua che bontà si può mangiare tranquillamente anche fredda ed è buonissima vabbè ma la mangio adesso ho partito e assaggio un po' con il panzarotta si è mangiata la sua e ora si è mangiata quella la nostra dietetica si è mangiata la dietetica e quella normale questo si fa questo consigliere come si può dire un saluto allora mi parla mi parla mi parla vorreste stare qua a mangiare questa magnifica pizza comunque vi prometto che seguiranno altri video si tengo genia gli occhi alla sorrentina come no va bene fatemi sapere voi che video di ricette vorreste vedere ecco guarda e noi le prepariamo puoi aiutare e io me le mangio una bella parmigiana parmigiana di melanzane buona ciao 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 alla prossima da Pachito è tutto ok alla prossima e buon appetito favorito ciao ciao ciao